Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età, mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiare bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiare bianco. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione!